La ventunesima comunità montana di Montilepini ed Ausoni ha realizzato nei mesi di dicembre e gennaio l'evento Una Comunità in Salute. Grazie al contributo della Regione Lazio in tutti e nove i comuni della comunità, Amaseno, Castrodevosci, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Valle Corsa e Villa Santo Stefano, sono stati installati sensori fissi di rilevamento per il monitoraggio della qualità dell'aria. Tutti i comuni della ventunesima comunità montana rientrano nella classe 1 della zonizzazione regionale per la qualità dell'aria rispetto alle concentrazioni delle polveri sottili. La classe 1 è la peggiore rispetto ai rischi sulla salute, pertanto grande deve essere l'attenzione alle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. La ventunesima comunità montana ha realizzato una rete di centraline per la misurazione delle concentrazioni delle PM che costituisce un'avanguardia tecnica e scientifica di assoluto rilievo. Unica nel suo genere e degna di essere ripresa in tutti i territori a rischio. La comunità montana si è dotata quindi di una rete multipla di monitoraggio che rispecchia la vera realtà di ciascun paese rispetto alla qualità dell'aria, al di là di teorici modelli matematici già applicati a comuni con caratteristiche estremamente eterogenee. Il sistema di rilevamento utilizzato è denominato ANCLER, presenta caratteristiche e funzioni notevolmente innovative e permette la rilevazione continua, momento per momento, della concentrazione delle polveri sottili. Delle PM10, riconosciuto markers atmosferico di inquinamento, delle PM2.5, responsabili di malattie sistemiche dell'organismo e per la prima volta delle PM1, che le centraline tradizionali peraltro ancora non rilevano ma che rappresentano le più pericolose per la salute umana. I dati rilevati possono essere visualizzati e consultati in tempo reale attraverso il personal computer o con l'app sul cellulare. La possibilità di disporre di uno strumento di semplice consultazione, fruibile da tutti, che indica i momenti della giornata più critici per le concentrazioni di PM, quando il rischio di esposizione agli inquinanti atmosferici è troppo dannoso, permette a tutti, ma in particolare alle persone più deboli, malati, anziani e bambini, di adeguare i propri comportamenti ed evitare così gravi ed importanti ricadute sulla salute. Avere conoscenza della condizione ambientale in maniera costante e continuativa rappresenta un indispensabile strumento di equiparazione nel territorio tra variazioni di inquinamento ed incidenza ed evoluzione di patologie indicate e monitorate. L'acquisizione, l'analisi e la correlazione dei dati concretizza un ineguagliabile patrimonio di informazioni e costituisce la base scientifica per l'elaborazione di progettualità che riducano l'impatto emissivo e la difesa della salute dei cittadini con la possibilità di interventi in ambiti molteplici, per esempio la possibilità di individuare nelle zone a minor concentrazione di PM aree da adibire a parchi giochi per bambini o aree dedicate alla vita sociale degli anziani, l'organizzazione della viabilità e la gestione dei flussi del traffico, favorire un'architettura veramente green controllando e verificando l'efficacia delle iniziative intraprese. Una comunità in salute è il segno della presa di coscienza a favore dell'ambiente divenuta ineludibile considerato l'inquinamento del nostro territorio e rappresenta l'impegno delle amministrazioni contro l'inquinamento atmosferico che fa della nostra provincia uno dei luoghi più inquinati d'Italia.